Ultimo appuntamento del girone d'andata per la Sandrabate. Dopo la vittoria larga contro il Monastir, la formazione di Piero Basile affronta sabato pomeriggio ore 16 al pala del Mauro di Averino il Petrarca Padova. Ben 16 i punti di distacco tra le due formazioni, 28 Sandrabate, 12 per i Veneti. Irpini in serie positiva da quattro giornate con tre vittorie arrivate contro Monastir, Aniene e Pesare con annesso pareggio per 2-2 contro la Camedosson. Basile incrocia le dita per il recupero di Ghi, assente per infortuna negli ultimi incontri. Archiviato il mercato con l'arrivo di Angelotti e lo sfumare di Bissoni per una manciata di minuti, il testamento è stato rigettato. La formazione irpina potrebbe allungare le rotazioni del roster di Basile. Si fa concreto il ritorno in irpina di Manuel Crema, il laterale agendo sotto la maglia della Sandrabate nella stagione 2020-2021. Palmares invidiabile per Crema, che ha doppia cittadinanza italo-brasiliana e anche esordito con la maglia azzurra italiana di calcio a 5. I prossimi giorni saranno decisivi per il ritorno al Del Mauro di uno dei calcettisti rimasti nei cuori dei tifosi e non solo, che non vede l'ora di rimettersi la maglia verde-azzurra addosso per riprendere un discorso interrotto soltanto due anni fa. La formazione irpina potrebbe allungare le rotazioni del roster di Bissoni per la maglia verde-azzurra addosso per riprendere un'ora di Bissoni per la maglia verde-azzurra addosso per riprendere un'ora di Bissoni per la maglia verde-azzurra addosso per riprendere un'ora di Bissoni per il ritorno al Del Mauro di uno dei calcettisti rimasti. Grazie a tutti